Wewe ragazzi e bentornati nella stagione 3 delle venture Oggi in questo video vedremo i particolari di appunto queste nuove venture Vi darò qualche consiglio per la Frostrant, vi farò vedere anche un piccolo trucchetto Per fare la missione dei Centocrampus Insomma oggi faremo un video unico e vedremo tutti i cambiamenti, tutte le novità che sono state apportate dopo una settimana Quindi cercherò anche di darvi qualche piccolo consiglio Allora ragazzi partiamo dalle ricompense Come ogni stagione non dovremo far altro che arrivare al livello 50 del pass battaglia Ve lo ricordo per chi non lo sapesse il modo migliore per salire di livello non è altro che giocare e accumulare pieventura I pieventura vi saranno dati anche tramite incarico, anzi la maggior parte sarà tramite incarichi Quindi semplicemente seguendo il filo degli incarichi e svolgendo tutte le missioni che ci richiedono E poi ci basterà comunque fare qualche missione per appunto accumulare qualche livello ulteriore per poter sbloccare la zona successiva Comunque tutti questi pieventura faranno il vostro livello Quindi fatta questa premessa il totale dei pieventura che vi servirà per arrivare al livello 50 del pass è di 2.310.000 Quindi il modo per salire è soltanto uno, giocare non serve potenziare nulla Le ricompense sono davvero simili a quelle dello scorso pass Infatti troviamo 16 supercaricatori supersi di 4 supercaricatori eroi 3 supercaricatori trappola, 3 per le armi, 3 lama tesoro del troll leggendario 2 nuclei del rivantaggio, 2 voucher per le armi e 2 voucher per gli eroi E in aggiunta comunque tra un livello e l'altro sapete ci sono ricompense come materiali da evoluzione piuttosto che oro eccetera eccetera Superato il livello 50 del pass non ci saranno più supercaricatori Non ci saranno più rivantaggi insomma come le precedenti stagioni ci basterà arrivare appunto al 50 Le ricompense dopo il livello 50 comprenderanno solo materiali da evoluzione Come voi tutti avrete già ben notato queste venture hanno dei modificatori davvero particolari e davvero intriganti Infatti per ogni classe troviamo 4 modificatori che vanno a boostare le nostre statistiche Indipendentemente comunque dalla build che noi andremo ad utilizzare Sarete boostati su tutte le build che avete disponibili ovviamente su tutte le build che andrete a utilizzare Avrete quella cosa in più, quel tocco in più che adesso andremo a vedere nel dettaglio Che comunque vi farà risultare il gameplay molto più piacevole Per i soldati Allora per i soldati è molto interessante quello che ci viene messo a disposizione Vi piace mettere a segno colpi alla testa? Ottimo! Il danno dei colpi alla testa viene raddoppiato E beneficerete di recupero ridotto quando eliminate abietti con armi a distanza Quindi granate e pallottole a volontà Cosa significa questo? Ovviamente non è di difficile comprensione Quindi avremo i danni raddoppiati in testa Quindi magari è molto utile anche andare a sviluppare una build che vada a incrementare i danni dei colpi alla testa Poi le armi sapete nelle venture non le possiamo percare Quindi dovremo anche essere leggermente fortunati E praticamente utilizzando le abilità e successivamente durante il recupero dell'abilità Se continuerete a uccidere abietti con appunto fucili d'assalto O meglio con armi a distanza Vi verrà scalata la cooldown della vostra abilità utilizzata Quindi si potrà creare un combattimento veramente sinergico sfruttando tantissime abilità Faccio un piccolo esempio Posso per esempio utilizzare magari i build che a me piacciono che comprendono tante abilità Per esempio onda d'urto, destro e mancino e grido di guerra nella stessa build Piuttosto che mettere il light show come comandante che possiede destro e mancino, grido di guerra e minigun Insomma potete sbizzarrirvi talmente tanto che qualsiasi build voi andrete a utilizzare Veramente vi sembrerà molto molto bustata diciamo Ogni uccisione diminuirà la cooldown di 4 secondi Quindi anche trovare un'arma che sia abbastanza forte, che sia abbastanza veloce a ricaricare Sapete comunque che vi permetta di effettuare tutte queste uccisioni per mantenere appunto basso il tempo di recupero Diciamo che è ottimo I costruttori invece vi piace costruire? Vi troverete mai a corto di materiali? Adorerete i costi ridotti per costruzioni o riparazioni O preferite roteare un martello gigante? Nessun problema Beneficierete un maggior danno da impatto e di recupero ridotto quando attivate il sovraccarico cinetico Quindi anche qui le due combinazioni sono molto molto interessanti Di preciso la curiosità sta nel vedere quanto si spende per appunto diciamo costruire e potenziare qualsiasi struttura Per costruire qualsiasi struttura passiamo da un costo di 10 a un costo di 3 materiali Quindi 3 di legno, di mattone oppure di metallo Per potenziare passiamo da un costo di 20 ad un costo di 6 Per potenziare l'ultima volta passiamo da un costo di 30 a un costo di 10 Quindi risparmieremo ben 41 di materiali a struttura potenziata al massimo Che è tantissimo ragazzi Ninja! Un salutare mix di mischiabilità sarà la chiave di questo modificatore Concentrate gli sforzi sulle eliminazioni con abilità per ottenere un aumento di danni da mischia e velocità d'attacco Usate questo aspetto a vostro favore dato che le eliminazioni in mischia riducono anche il recupero delle abilità E' semplicissimo anche qui, lo stesso principio dei soldati solamente che questa volta sulle armi da mischia Personalmente già sulla mia build che utilizzo più spesso che è quella di Scorch Drago con i bastoni di Barba Blake Mi trovo veramente benissimo Con il ritmo di battaglia che entra quando fai lo squarcio, la velocità d'attacco aumentata In più questa pack che aumenta sia i danni sia la velocità d'attacco ulteriormente Beh è qualcosa di veramente fantastico Anche per gli stranieri troviamo qualcosa di veramente veramente interessante Abbiamo la possibilità di farmare con la carica antimateria infinitamente Ciò cosa significa? Significa che una build per esempio di Souty Fossile qua in zona ventura è praticamente inutile Potrete fare meglio di quello che fate di solito con Souty Fossile con qualsiasi straniero Perché appunto non consumerete energia quando utilizzerete la carica antimateria Oltre ciò avremo anche frammenti gratuiti ogni 50 secondi Oltre che comunque a danni e abilità aumentati ovviamente E fidatevi che con un eroe tipo clip farmare sarà veramente semplicissimo Quindi ragazzi ricapitolando non avrete bisogno di andare a sviluppare build rotte In quanto qualsiasi build voi andrete a utilizzare trarrà vantaggio da appunto queste cose che abbiamo appena elencato Poi ragazzi abbiamo anche il quartiere di Crackshot Dove abbiamo visto anche l'anno scorso è facilissimo farmare il carbone qualora ne aveste bisogno Vi lascio in descrizione il link dell'anno scorso Ma una cosa veramente interessante che voglio condividere con voi quest'anno È un trucco per affrontare i 100 Krampus Tutti noi sappiamo che nella mappa di Frost Knight nascono al massimo 3 Krampus a partita Ciò renderà veramente difficile l'incarico dove ce ne chiede di uccidere 100 Ma oggi vi svelerò un piccolo trucchetto barra bug che può essere che vi tornerà utile Comunque volevo fare un ringraziamento a Brutal per avermi mostrato diciamo qualche piccola strategia Per effettuare questo piccolo trucco meglio Allora niente ragazzi non ci faccio un tutorial vero e preciso perché non esiste un vero e proprio metodo per farlo È un bug e come tale capita randomicamente e non sempre Ed è possibile farlo da solo in coppia e anche in squadra Non si sa bene da cosa dipenda Fatto sta che il consiglio che mi è stato dato è quello di utilizzare armi energetiche Per esempio il fucile pesante al neon dove appunto ha proprio i colpi energetici E cercare di infliggerli danno quando lo smasher diciamo è chiuso fuori dalla tempesta Quindi dove noi prendiamo danno dalla safe E in più un'altra cosa che mi è stata detta è cercare di non farlo caricare E non facendolo caricare semplicemente può essere che questo bug ci capiti un pochino più spesso Quindi non esiste una vera regola ben precisa Ricordatevi solamente questi piccoli particolari Vi faccio presente che personalmente mi è successo anche dentro la safe Mi è successo senza armi ad energia Quindi non esiste un vero e proprio metodo Fate comunque attenzione a quando vi capita questa situazione Perché potrete trarre nel vantaggio per fare fino a 5, 10, 15 Krampus in una sola partita E niente ragazzi per il video di oggi era tutto Spero di essere stato abbastanza chiaro e spero soprattutto che il video vi sia piaciuto Mi raccomando comunque ci tengo molto a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti Quindi se ancora non l'avete fatto fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate Io non posso fare altro che salutarvi Noi ragazzi ci vediamo con il prossimo episodio Bella bella Ciao 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 Ciao